10 anni in testa e poi 3 Pena ragazzi Ebbene che sono Sono Expiron Ho avuto un attimo la crisi di identità Sono Expiron comunque E oggi siamo qui su Brave Frontier L'appuntamento delle 5 Perché a quanto pare oggi alle 9 non uscirà Brave Frontier A quanto mi è stato detto dalla regia qua dietro Allora ragazzi Dovrei Un momento Sì sì dovrei essere pronto per tutto Ragazzi oggi non siamo nel dungeon giornaliero Perché come ho detto nello scorso episodio Abbiamo finito ma come vedete c'è Ezedio del Tuono Eroi di Atarva E' un dungeon speciale in cui potrete catturare Eze Non credo ogni volta solo che io tipo Mi è Sono riuscito a catturarlo subito al primo colpo Non si sa come Ho provato tutti i due dungeon Ci sono eroi di Atarva a livello 1 Che non vi darà niente E poi eroi di Atarva a livello 2 In cui appunto avrete la possibilità di droppare Appunto un Eze Io ce l'ho già ma ora non lo sto usando Anche perché mi sembra molto 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 Rischioso portare un'unità Che praticamente ho appena preso Non conosco E poi vabbè Mi andrò appunto a Te lo faccio a parlare Andrò a informarmi su questa unità Perché per ora io non so niente Sto guardando un po' Un po' bene Un po' bene Tutti i Quelli che potrei scegliere E penso che Quella a fuoco Fuoco Sarà Sì Sarà quella che ci aiuterà Questa qua livello 56 Ragazzi come avete Già capito Penso Dalla mia preoccupazione Stiamo andando a fruttare un dungeon Che non è Per niente Facile Neanche difficilissimo Ma vabbè Oggi doveva uscire La Raid beta Che però mi crasha sempre Devo capire Il perché È un problema che ha riscontrato molti utenti Magari lo scaricherò Sul Appunto Sul computer E vedrò se riuscirò appunto A fare questo dungeon Ora A quanto ho visto Non c'è bisogno Per forza Che Di farlo con degli amici E robe varie Anche perché c'è altra gente E non è neanche difficile appunto Da concludere Non penso O da quanto ho visto Vabbè ragazzi Qui si può affrontare Tranquillamente In auto Anche se verso la fine Dovrò toglierlo Sia per far caricare Il super brave burst Sia per appunto Recuperare un po' di energia In vista del boss Anche perché Anche essendo solo uno È molto potente ragazzi È molto potente Anche perché È la versione da 7 stelle Che Vi informo Sia che È uscita Che sia uscita Da dove Da dove mi è uscita Questa parola Non lo so neanche io Sto parlando velocissimo E non so perché È tipo da 20 minuti Che continuo a parlare Così velocemente Di robe che Effettivamente Non me ne frega niente Però Insomma Per parlare così Sono stanchissimo Mi sta venendo il fiatone Tipo Ragazzi Oggi è allenata Tutto come ho detto Non ci sarà Brave Frontier Perché probabilmente Ci sarà un video di Destiny Sulla gara degli Astori Anche perché io Mi sto allenando tantissimo Per non fare figure di merda Ma mi sa che Il primo video Sulla gara degli Astori Sarà un video Veramente La figura di merda Incredibile Perché Tipo Ho fatto una gara E come ha assistito So Usmat Tipo Sono arrivato Quinto su 6 Solo perché Uno ha quittato Cioè Vabbè Qui ragazzi Tipo A metà strada Incontrerete appunto Il Bimot Che non sarà niente di che Anche se Mi sta puntando Magres Non sono Non sono molto Della quale Questa sedia La devo cambiare Veramente Devo cambiarla A Natale Mi farò regalare Una nuova sedia Gli altri Ci faranno regalare Belle cose Una sedia Una sedia Chiedo Non lo so Non lo so Perché ragazzi Oh che culo Mi da il re del tuono E si questi qua Praticamente ce li da qua Per Poi Potenziare Eze Appunto Me li mette apposta Lì c'è un altro Mini boss E io direi Di Togliere Togliere L'auto Anche se Mi sa che qui Dobbiamo giocarcela Di brave burst Vabbè Usiamo Il super brave burst Di elza Vediamo se Si Ok ok Siamo riusciti A prendere Saggiamente A puntarlo Saggiamente E andiamo Alla fine Del dungeon Spero che ci sia Ancora mia madre In questo tablet Comunque Vabbè Niente Attacchiamo Di brave burst Qua Ho paurissima Di perdere Ho paurissima Non è la prima volta Che lo faccio Però insomma Come vedete Non li tolgo neanche molto E lui mi toglie molto 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 Soprattutto se ti punta Praticamente Un solo Per una sola unità Cioè tipo Ti spacca Perché come avete visto Tipo Mi sta puntando sempre Magrass Ma lo fate apposte Continua a puntare Mi magrass Chiunque In questo dungeon No 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 Allora Meno male che l'ho bloccato E magrass Perché non mi avevo usato Il brave burst Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Facino Cagate Immonde Immonde Vediamo Se Riesco A fare qualcosa Ragazzi Vorrei anche cambiare Un po' Il mio Insomma La mia Giornata Anche perché Io vorrei portarvi Alle 9 E ritornare L'appuntamento Di Fallout Non so se Di Fallout Anche perché Io A Natale Appunto Mi dovrebbe arrivare La Play 4 E io Fallout Lo lascerei da parte Lo sappiamo tutti Che io Non sono costante Soprattutto quando Mi arriva una console Del genere Non credo Di poterlo Continuare E niente Qui andiamo avanti Cos'era Ho usato il super brave Verso che Non l'ho visto Ragazzi Vabbè Senza gran cura Ma è perfetto Stavolta Non è stato duro Come l'altro Non è stato duro Non è stato duro Vediamo se riusciamo A sbloccare Però Questo Eze Anche se Ora Se mi blocca Il super No Non può Bloccarmelo Evidentemente Vabbè Anche se ci demagri Non sprechiamo gran cure Perché Costano Costano Guardate qua È rimasto Un PS Un HP Un PS Non lo so Dove mi è venuto Bene così L'abbiamo Bene Brrr Bene così Ci dai La nostra unità Come avete visto qua Non credo di averla catturata Non credo di aver catturato Eze Vabbè Che cosa ce ne fe L'avevo già catturato una volta Quindi Sì insomma Ci sono rimasto un po' male Volevo farvi vedere Che catturavo Eze Però Cioè È proprio così Che Un po' di materiale Ci dà anche Questo dungeon No Quello è la Eze Quello è la Eze No Era un Dio del tuono Vabbè Vedrò di potenziare bene Eze Per portare appunto La sua forma Da 7 stelle Anche se non l'ho portato Praticamente Neanche Vargas A 7 stelle Ma nel prossimo video Spero di portarvi Questo nuovo Vargas Se vi è piaciuto Vi piace Mettetevi piace Alla pagina Facebook In descrizione Perci tutto Bella